La storia La storia, vi racconto adesso quello che il Talmud racconta di come è successo, di come ha causato la distruzione del santuario. Il Talmud racconta questa storia, una storia molto famosa, che si chiama la storia di Kamsa e Bar Kamsa, che sono due nomi, erano due persone. Allora la storia è così, c'era un signore, un signore molto benestante, che aveva la festa del figlio, il matrimonio del figlio. Lui manda il suo messaggero a invitare il suo migliore amico, che si chiamava Kamsa. Lui mandava il suo messaggero a invitare tutte le persone, all'epoca non era come oggi che si mandava un invito o addirittura un whatsapp. Il messaggero andava in giro, bussava alla porta, e diceva il tal giorno c'è il matrimonio della tal persona, siete invitati. Almeno lui faceva così perché era una persona benestante. Manda il messaggero a invitare il suo miglior amico, che si chiamava Kamsa. Il messaggero ha sbagliato, è andato anziché invitare il signor Kamsa, va e invita il signor Bar Kamsa. Ha confuso i nomi che erano simili, però la fatalità era che questo Bar Kamsa era il suo nemico giurato, del padrone della festa. E lui si è sentito onorato, wow, si vede che vuole fare pace con me, ed è andato al matrimonio, al posto del miglior amico. Benissimo, questa è una storia riportata nel Talmud. Questo signor Bar Kamsa si siede alla festa, arriva il padrone della festa, papà dello sposo, piuttosto che della sposa, vede il suo acerrimo nemico, vada, lui dice, cosa ci fai qui? Vai fuori dalla mia festa, non mi rovinare il mio giorno più bello della vita. E Bar Kamsa dice, ma scusami, è venuto il tuo addetto a portarmi un invito personale, tu mi dici vai via? No, lui ha sbagliato, non intendevo te, ha capito lo sbaglio, intendeva Kamsa, per favore prendi e vattene via. Bar Kamsa dice, guarda, sono qua, tutti vedono che sono seduto, non mi mandare via, non mi svergognare in questo modo, pagherò la mia cena, però ti prego, non cacciarmi via davanti a tutti. Il padrone dice, non voglio sentire niente, vattene via immediatamente. E lui ha offerto di pagare metà festa, tutta la festa, piuttosto di non essere svergognato, ma il padrone di casa ha detto, non c'è verso, alzati e sparisci di qua, non voglio vederti. Ovviamente un atteggiamento molto negligente, molto sbagliato, specialmente da fare in un giorno così gioioso, il matrimonio di un figlio, ma questo è quello che la storia ci riporta nel Talmud. Questo ebreo qua, di nome Barcanza, a questo punto, ha visto che nessuno ha fatto niente, tutti vedevano, nessuno ha cercato di parlargli, di convincerlo, niente. In quel momento lui ha detto, io odio questa comunità, odio i miei fratelli ebrei e gliela farò pagare, mi vendicherò. Cosa fa? Va dai romani. Ricordiamoci, stavano nel momento quando eravamo sotto il dominio romano. Va dai romani e dice, state attenti, gli ebrei stanno organizzando una ribellione contro di voi. E i romani dicono, da dove? Da dove è questa informazione? Dice, vedrete, facciamo una prova, dice questo ebreo. Mandate che l'imperatore mandi un capretto, un animale, in regalo, in dono, al Betamigdash, al santuario e diteli che volete fare un dono che venga sacrificato sull'altare, facciamo un animale kasher, un capretto, e vedrete che loro non accetteranno. E questa è la prova che stanno scogitando una ribellione verso l'impero romano. E così succede. Prendono un animale, mandano. Cosa succede? Questo ebreo qua, Barcanza, prende questo animale e fa un piccolo taglietto sulla sua lingua che lo rende non idoneo a essere sacrificato. perché la Torah dice che un animale per essere sacrificato oltre ad essere un animale puro, cioè kasher, doveva essere completamente integro. Infatti lo si controllava se non aveva nessun arto fratturato, se non zoppicava, se era tutto a posto. Il corpo doveva essere completamente integro e sano. Perciò l'ebreo sapeva che facendo di nascosto o non una cosa visibile che la persona che portava l'animale lo vedesse, ma di nascosto ha fatto un piccolo lacerazione alla lingua piuttosto che al labbro sapendo che gli ebrei avrebbero controllato e l'avrebbero squalificato. E così succede. Arriva la persona con l'animale e dice l'imperatore di Roma manda questo dono per il tempio di Giuseppe e desidera che venga sacrificato. In quel momento si apre una discussione. Da una parte loro non potevano accettare questo animale, non potevano sacrificarlo perché appunto era, non era integro, aveva questo taglietto. D'altra parte loro pensavano, c'era chi diceva assolutamente non possiamo accettare perché c'è questo taglietto. Poi dicevano però attenzione, altri dicevano ce lo sta mandando l'imperatore, l'imperatore di Roma, noi siamo sotto i romani. Se noi mandiamo indietro l'animale cosa succederà? Loro non sapevano ovviamente che Barcanza stava escogitando tutto. Loro hanno pensato se noi mandiamo indietro il capoetto senza accettarlo sarà la nostra fine. Verranno, faranno una guerra, ci distruggeranno, ci ammasseranno come in realtà è successo. Perciò c'era una grande una discussione tra i leader, tra i chachamim, tra i saggi c'è chi diceva no assolutamente non possiamo accettare e altri dicevano no perché no? Dobbiamo accettare perché? C'è scritto un halakha, la regola dice per salvare la vita umana si può far tutto. Per esempio se una persona ha bisogno di andare in ospedale di Shabbat perché è successo qualcosa di grave per salvare la vita lui può andarci in macchina anche se Shabbat è divietato andare in macchina o se il giorno di Kipur per esempio qualcuno sta male che può veramente stare male può morire o quant'altro può stare male perché è anziano o che gli si può dare qualche goccia di acqua o un pezzo di zucchero quello che sia per farlo rinvenire perciò la Torah dice sì bisogna sempre seguire la regola ma fino alla morte non si può uccidere una persona non si può morire per poter per dover rispettare una legge della Torah perché la Torah dice dovete vivere con le mitzvot e non morire perciò secondo questo studio questo concetto alcuni dicevano in questo caso qui vuol dire far morire la gente perché ci verranno ad attaccare perciò noi abbiamo il permesso della Torah di sacrificare questo animale anche se in realtà non è idoneo perché ha il labbro tagliato ma alla fine hanno deciso di tenere la regola dura e di mandare indietro l'animale e di non accettare questo dono dell'imperatore e il resto è storia lo sappiamo l'imperatore ha creduto che veramente c'era una libellione in atto hanno attaccato Gerusalemme hanno distrutto il Tempio il Tempio bruciava e non soltanto che hanno bruciato il Tempio sono morte in quell'occasione forse milioni di persone migliaia sicuramente ma forse milioni noi parliamo sempre della Shoah ma quello il sangue che sgorgava nella distruzione del santuario era una cosa fuori dal normale chi era il contrario il personaggio che era totalmente il contrario di questo modo di vedere il grandioso Rabbi Akiva diverse volte abbiamo parlato di questo Rabbi Akiva velocemente Rabbi Akiva chi era lui aveva tutto un'ottica diversa prima di tutto Rabbi Akiva era Ben Gerim ovvero era figlio di convertiti perciò lui non veniva dalla classica famiglia ebraica dove c'erano generazioni e generazioni mio nonno mio trisnonno no lui era una persona che i suoi genitori erano convertiti perciò lui non aveva quel non poteva dire eh mio bisnonno era il rabbino tal dei tali piuttosto che no non erano ebrei uno numero due era una persona povera numero tre era un ignorante non sapeva niente della Torah però c'aveva già queste tre cose che disturbavano diciamo la sua persona perché ripeto se sei figlio nipote di qualche rabbino allora sei già avvantaggiato se sei ricco sei avvantaggiato se sei conto lui non aveva niente di tutto ciò era tutto proprio gli mancava diciamo ufficialmente gli mancava tutto eppure lui ha creduto in se stesso eppure lui aveva l'ottica a 360 non era pessimista e lui cosa ha detto anche se sono figli di non ho zii o nonni importanti dell'ebraismo e sono povere non interessa io voglio cominciare a studiare la Torah lui fino a 40 anni non sapeva neanche leggere l'alfabeto a 40 anni era proprio un ignorante e la storia è che lui comincia a studiare e diventa un grande rabbino uno dei più grandi e fino ad oggi Rabbi Akiva il povero l'ignorante il non figlio di rabbini lui è diventato uno dei rabbini più grandi della storia ebraica che finora nel Talmud viene riportato il suo nome con i suoi assagnamenti ciò significa che non è importante chi sei non è importante da dove arrivi chi è tuo nonno chi è tuo bisnonno quanti soldi hai quanto sei capace di studiare non è importante Rabbi Akiva credeva in se stesso Rabbi Akiva credeva nel cambiamento che si può apprendere un qualcosa e trasformarlo dal buio totale alla luce totale la famosa storia di Rabbi Akiva che il Talmud porta lui dopo la distruzione del santuario lui e i suoi compagni si trovano a Gerusalemme proprio vicino al santuario al Betamikdash e cosa succede? vedono una volpe uscire dal santuario il santuario che è stato distrutto e così via quando lui vede una volpe ricordiamoci il santuario era un posto santo c'era una parte il codice del santuario lì dove la volpe è uscita che nessuno potrebbe entrare nessuno entrava lì soltanto una volta all'anno il giorno di Kipur ripeto una parte del santuario che era il codice a Kodashim soltanto una volta all'anno soltanto il sommo sacerdote il giorno di Kipur poteva entrare a portare le preghiere per il popolo ebraico e anche lì se non stava attento se i suoi pensieri non erano al cento per cento consoni lui moriva infatti veniva andava dentro con un filo legato al piede che se moriva potessero portarlo fuori perché chi entra poteva morire anche lui per dirvi quanto questo posto era santo che se uno per un attimo non era concentrato la sua anima usciva fuori bruciava dall'energia che c'era non bruciava dal fuoco ma moriva per tutto quello per la grande energia positiva che c'era per la divinità che c'era e da lì cosa esce un animale impuro da lì esce una volpe allora tutti i suoi amici i suoi compagni che vedono questa scena così degradante cominciano a piangere di dispiacere di dove siamo arrivati da un tempio così importante un animale impuro esce invece rabbia perché stai ridendo e lui chiede ma bravo è vero che fa una domanda risponde una domanda con una domanda e voi perché piangete e lui dicono come guarda che degrado dal betamigdash esce fuori un animale impuro allora lui dice cari amici io rido di gioia perché ci sono due profezie una profezia che parla in effetti della distruzione di gerusalemme e c'è un'altra profezia dice rabbia chiva invece che parla della sua ricostruzione di gerusalemme rinata delle persone che riempono gerusalemme giovani e anziani vecchi allora dice cosa vuol dire questo? dice ora che vedo questa decadenza che addirittura un animale impuro esce dal kodash a kodashim adesso so che anche la seconda profezia si avvererà perciò finora non sapevo adesso che vedo con i miei occhi che degrado c'è sicuramente anche la seconda profezia della gerusalemme ricostruita si avvererà perciò io sto ridendo sto sorridendo della gioia che da questa cosa da questa scena così brutta imparo che oh allora se questo è stato vero se si è avverato questo si avvererà anche la seconda profezia che tutto rinascerà tutto verrà ricostruito allora perché piangere per una cosa bisogna gioire per il futuro per quando verrà ricostruito e allora i loro i suoi compagni dicono a chi va mi cantano a chi va mi cantano due volte a chi va ci hai consolati a chi va ci hai confortati perché perché ci è data la speranza della seconda profezia la famosa storia la famosa storia con il rebbe che era venuta una persona da lui e diceva rebbe io ho tanti problemi nella vita e rebbe dice perché li chiami problemi devi chiamarli ho tante sfide challenge nella vita dice perché rebbe fa ma che differenza fa come lo chiamo ho un problema dice no tutto sta nella tua testa se tu lo vedi come un problema lo vivrai come un problema e non riuscirai forse forse a risolverlo ma se tu lo vedi come una sfida e non come un problema nei tuoi occhi nella tua mente nel tuo modo di vedere questa cosa non vedrai un muro ma vedrai una sfida e quando c'è una sfida io voglio rispondere a questa sfida e voglio superare e vincere la sfida e questo è quello che il rebbe diceva non guardare con gli occhi sbagliati guardali con gli occhi positivi lo stesso Rabbi Akiva racconta una storia bellissima il Talmud racconta Rabbi Akiva quando era diventato già Rabbi Akiva che aveva 24.000 studenti lui racconta questa storia che adesso racconterò ai suoi discepoli e gli dice sapete una volta quando io ero ancora studente lui stesso prima di diventare rabbino studiava e lui studiava in una yeshiva in un certo studi prima che diventasse grande Rabbi Akiva un giorno arriva a scuola nella yeshiva nel centro studi arriva tardi i maestri dicono Akiva cosa è successo come mai oggi hai fatto tardi sei sempre puntuale dice non sapete stavo camminando per strada e ho visto un morto ho preso questo morto l'ho trascinato fino al cimitero ho scavato una fossa l'ho seppellito e ho fatto questa grande mitzvah di seppellire un morto i maestri gli dicono Akiva cosa hai fatto hai sbagliato Akiva non potevi fare questo si chiama met mitzvah ovvero quando trovi un corpo abbandonato in un campo vuol dire che questa persona non ha parenti non ha nessuno uno che muore da solo anche se muore in casa oggi anche a volte c'è un met mitzvah una persona che muore e non ha nessuno al mondo è una mitzvah grandissima di seppellirlo perché non c'è nessuno al mondo dicono Arabi Akiva Akiva guarda che tu hai sbagliato la regola dice che quando tu trovi un met mitzvah un morto per strada nei campi dovunque sia tu devi seppellirlo per il suo onore devi seppellirlo lì ovviamente se c'è terra da seppellirlo ovviamente dovevi seppellirlo lì e non non portarlo fino al cimitero perché questo è il suo onore che questo pezzo di terreno diventa suo che lui ha il diritto di essere seppellito lì e non trasportato questa è una regola antica e dicono Akiva ogni passo che tu hai fatto con questo morto hai fatto uno sbaglio Arabi Akiva in cuor suo si sentiva ah ho fatto una grande mitzvah ho portato ho trascinato un morto da solo tutto pesante l'ho portato l'ho seppellito invece non sapendo non aveva ancora studiato tutta la Torah ha fatto uno sbaglio e allora quando lui sta raccontando anni e anni dopo questa storia ai suoi discepoli allora loro cosa gli hanno detto Rabbi gli chiedono chissà come ti sei imbarazzato come ti sei vergognato davanti a loro come ci sei rimasto male tu pensavi che hai fatto una mitzvah invece hai fatto il contrario e Rabbi Akiva gli risponde no no non capite cari figli miei questo era proprio l'inizio della mia crescita questo sbaglio qui mi ha fatto crescere mi ha fatto dare la voglia ancora di studiare ancora di più perché che lui ha capito che uno dei segreti della vita è che uno sbaglio ascoltate bene uno sbaglio è uno sbaglio solo se non imparo da questo sbaglio cosa vuol dire sbaglio una cosa non giusta dipende da te se questo è un sbaglio tu puoi avere fatto uno sbaglio e continuare a sbagliare e non imparare la lezione perciò rimane uno sbaglio ma se tu da questo sbaglio impari la lezione in modo retrattivo questo non è più uno sbaglio perché ti ha fatto imparare qualcosa di nuovo perciò tecnicamente hai fatto uno sbaglio ma questo sbaglio ti fa crescere perché capisci la lezione capisci lo sbaglio fatto facciamo qualcosa di negativo che però ti porta è come la porta che si chiude per farti aprire un cancello un portone non vai a guardare quello che hai sbagliato perché tu impari da questa cosa perciò imparando il tuo futuro comincia ad aprirsi la storia famosa che ho già raccontato anni addietro velocemente la storia di questo direttore dell'IBM IBM il direttore generale di questa compagnia che vale miliardi di dollari lui ha fatto uno sbaglio che ha causato una grandissima perdita di soldi e di immagini alla IBM la mattina dopo lui arriva in ufficio con le lettere di dimissioni e dice dallo sbaglio che ho fatto non mi sento più di poter lavorare qui io sono troppo in debito con te capo ti ho fatto un grande danno è giusto che io me ne vada via e il capo gli ride in faccia fa tu mi sei appena costato non so dieci milioni o dieci miliardi forse di euro mi sei costato per la tua educazione e adesso vuoi andare via cosa intendeva dire hai fatto uno sbaglio mi sei costato soldi ma questo servirà a te se imparerai la lezione tu riuscirai con quello che hai imparato a farmi riguadagnare ancora più soldi di quello che mi hai fatto perdere ho appena speso per la tua educazione e tu vuoi andartene via questo è il punto giusto di come guardare la vita gli sbagli esistono tutti sbagliamo siamo umani solo a scemo non sbaglia ma lo sbaglio che cos'è è un modo per buttarmi giù o per buttarmi su tutto dipende da noi c'è un aneddoto non è una storia vera questa è un aneddoto la barzelletta una storia un aneddoto che dice così c'era questa persona che lui era una persona pessimista di natura tutto sempre nero sempre buio sempre pessimista lui lavorava in una compagnia che che vendeva merce cibo latticini cibo fresco e lui il suo lavoro era che ogni camion che veniva lo doveva portare tutta la merce sul camion frigorifero mettere a posto chiudere e il camion andava una volta succede che lui finisce di chiudere di mettere tutti i bancali le cose dentro il camion e per errore lì si chiude la porta il camionista comincia a partire e questo era un viaggio in un posto molto lontano 30 ore di viaggio e lui dice la mia vita finisce qua 30 ore in una cella frigorifero morirò morirò assiderato e lui si dispera arriva a destinazione aprono il camion e vedono che c'è qua una persona stesa subito chiamano l'ambulanza arriva il dottore lo guarda e dice wow pazzesco che cosa lui ha tutti i sintomi tutti i sintomi di una persona che è stata assiderata che è stata nel ghiaccio nel freddo per 30 ore tutti i sintomi beh però il frigorifero era spento perciò lui ha tutti i sintomi ma perché la sua pensiero soltanto al pensiero che per 30 ore rimarrai nella cella frigorifera gli è successo quello che lui immaginava ma in realtà dal primo momento la cella era spenta per sbaglio perciò lui non ha neanche per un attimo avuto il freddo ma visto che nella sua mente lui lui aveva già vissuto gli era già successo quello che lui immaginava ovviamente un aneddoto di un pessimista ma in realtà purtroppo anche noi ognuno ha la sua realtà anche noi facciamo questi sbagli abbiamo un pensiero un negativo succederà qualcosa ma chi ha detto che succederà e chi ha detto che anche se succede veramente porterà soltanto al male non sminuire la forza di Hashem non rimanere con il pensiero intaccato che se ho una sofferenza che se ho un problema non lo porterò avanti per il resto della vita non è così cari amici i problemi vengono per darci la forza di reagire di ricostruire di andare avanti questo è il 9 di Av la distruzione del santuario il giorno più triste dell'anno ma nello stesso momento è anche un giorno tra virgolette di gioia almeno interiore perché c'è scritto che nel giorno che è stato distrutto il santuario è nato il salvatore del popolo ebraico ovvero Mashiach vuol dire l'anima di Mashiach l'esistenza di Mashiach del Messia è nato il giorno della distruzione il 9 di Av vuol dire come Talmud dice che Dio prima di mandare la malattia ha già preparato la cura di quella malattia vuol dire che Dio tutto quello che fa succedere nel mondo sia a livello di popolo che a livello di singolo è tutto un progetto per ricostruire tu che mi stai ascoltando non sentirti abbattuto non sentirti che la vita è finita non sentirti che non puoi andare avanti non c'è futuro sentiti che se Dio ti sta un pochettino stuzzicando e magari ci va anche pesante a volte perché vuole che da te si ricostruisca veramente un qualcosa di grandioso stai al gioco pensa come Rabbi Akiva e non fa lo sbaglio di Rabbi Zecharia che lui aveva un'umiltà distruttiva abbia un'umiltà che sa dirti ce la puoi fare abbia un'umiltà di Mosè abbia un'umiltà di Rabbi Akiva che vedeva tutto sempre in positivo e quando tu nella tua mente riuscirai a vedere tutta la tua vita in un modo positivo riuscirai a creare una vita grandiosa che quando ti guarderai indietro dirai non è possibile che quello ero io fatelo cari amici provateci almeno provate a uscire dal vostro guscio proviamo a uscire dal nostro guscio perché ognuno di noi ce l'ha e a volte noi ci sentiamo troppo comodi in questo guscio in questo comfort zone che diciamo meglio stare qui dentro so quello che soffro chissà se faccio un passo per uscire dal guscio chissà forse troverò qualcosa di peggio invece no bisogna rompere la corazzata uscire dal nostro guscio perché noi siamo l'estensione di Hashem e noi andiamo con la forza di Hashem e non soltanto con la nostra forza possa Hashem aiutarci in questi giorni così bui di trovare la passione trovare l'amore trovare la forza la confidenza in noi stessi in Hashem e di fare sì che già questo Shabbat qui non dovremo più disunare questa domenica perché ci sarà la redenzione finale con il terzo Bet Amigdash e andremo a Yerushalayim a mangiare carne e a bere vino proprio nel giorno diciamo anzi già quest'anno è così perché in realtà Shabbat è il 9 di Av e noi Shabbat cosa faremo? Mangiamo carne e beviamo vino ciò che è assolutamente vietato a fare il 9 di Av mangiare e bere il vietato tanto più carne e vino eppure Shabbat sarà il 9 di Av e noi già mangeremo e berremo e speriamo che questo Shabbat possa portarsi che Mashiach arriva e non ci sarà mai più distruzione mai più gelosia mai più morte mai più deficit niente soltanto da ora in poi luce di Braha luce di Hashem con la venuta di Mashiach chiedo a tutti di condividere per favore questa lezione affinché anche altre persone possano godere della luce delle parole di Hashem Shabbat Shalom a tutti e Chag Sameach